Un ottimo grado di soddisfazione, come contavamo che fosse il K&G in un periodo molto difficile dove la situazione la conosciamo un po' tutti e inutile stare a ripeterla, K&G rappresenta ancora una volta una bella sorpresa. Sicuramente interesse, sicuramente futuro, siamo molto contenti, è molto interessante un appuntamento a cui non si può mancare. Assolutamente d'accordo. Il bilancio è stato sopra le aspettative, devo dire la verità, perché in un periodo come questo che sta vivendo il Paese, un periodo che ovviamente sappiamo tutti, legato anche al mondo delle rinnovabili, pensavamo sicuramente a un'influenza minore rispetto agli anni passati. Meglio di così non poteva andare. Direi che la presenza oggi qua ad Ecomondo K&G, del Consorzio Italiano Biogas e di tutte le aziende che noi rappresentiamo, dimostra che le basi nel settore per poter pensare di avere un futuro rappresentato da una crescita progressiva ci sia, ci sono le basi. È il luogo dove si incontrano tutte le aziende della Green Economy, ogni anno è più grande, ogni anno ci sono più stand, ogni anno ci sono delle innovazioni tecnologiche molto interessanti. è la società civile, le imprese, i cittadini che sono forse più avanti di quanto la politica e le leggi siano in grado di realizzare.